PROVA IL TIRO JASPIST che ci sta dando tante soddisfazioni, una Premier League che pian piano cercheremo di modificare con qualche innesto. Vi faccio vedere i progressi nelle divisioni. Allora, eravamo in divisione 10, ho fatto la divisione 9 con estrema tranquillità e sono arrivato nella divisione 9 in cui ho fatto varie partite e infatti il nostro storico è 2-1-1, quindi due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Abbiamo 7 punti, per arrivare alla divisione 8 abbiamo bisogno di 3 punti ragazzi. 3 punti o 6 punti per vincere addirittura questa stagione. Non vi ho mostrato la prima divisione perché comunque era una divisione molto semplice che ho fatto con tranquillità. Vi mostrerò in alcuni video quelli che saranno i progressi, non vi mostrerò tutte le partite perché io non porto solo FIFA sul canale, quindi vi posterò dei video in cui vedremo se riusciremo ad arrivare verso le divisioni alte. Non so se riusciremo mai ad arrivare alla divisione 1 perché non sono un giocatore di FIFA. Cerco di giocare in modo molto più simile a PES, non sono il tipo che prende la palla e inizia a dribblare quindi non iniziate a scrivere, gioca con dribbling e cose cose qui. Io sono abituato a PES, un gioco molto più lento, quindi molto più tattico, molto più basato sui cross, sulle palle alte e così via. Quindi ragazzi partiamo subito facendo una partita, vediamo un po' com'è la situazione. Vediamo chi prendiamo ragazzi, speriamo che i server non l'hanno. Vediamo il nostro avversario con un 4-1-4-1. Una squadra molto 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 difensiva. Alemania Haschen, valutazione 79-20-100. Berami a centro campo, Olic in attacco. Mi sembra una squadra media, la nostra diciamo sulla carta è un po' più forte. Speriamo di riuscire a vincere, dai, 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 dai. Andiamo Luca! Silva parte subito a scontrarsi con Fellaini per fare un po' di gioco, un po' di scherno. Ricordatevi ragazzi che il mio pupillo è Miralas, eh? Il nostro pupillo per eccellenza è Miralas. Non gioco da un po' a FIFA, questo mi creerà qualche problema. Penso proprio di sì, però vabbè. Oh, oh, Silva! Silva! Oh, oh, Silva! La metta a giro! Che cazzo di tiro di merda! Ah, Silva! Pugliati le proteine la mattina, cazzo! 1-2 su Lukaku, ancora Fellaini, anzi Miralas. Adesso a Fellaini. Ancora passaggio filtrante verso Miralas. Miralas, vede dentro Lukaku. Lukaku! Mamma mia! Mamma mia Lukaku quanto è forte di testa ragazzi. Guarda Fellaini. No, Fellaini cazzo, sei due metri, non ti puoi far passare davanti. Dovresti avere un fisico spaventoso. Guardate Miralas, mamma mia i numeri, i numeri, il cross al centro. Lukaku! Mamma mia! Walker, cosa fai? Un calcio alla Walker Texas Ranger. Oh, 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 no, 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 Moreno, no, Moreno, no, cazzo! Questi gol di merda, Moreno che fai salti sul nulla. Koscielnì non ti fa superare. Koscielnì! Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Cosa fate? Core è un errore, Walker. Non ci credo, non ci credo! 2-0 Fellaini ancora Fellaini, guardalo Guardalo! Mamma mia, Miralas Mamma mia, cross al centro Lukaku! Di fuorigioco Fuorigioco? Fuorigioco, chiamalo! E dai, un'ora e mezza Per chiamare fuorigioco 2-0 Perdiamo Però è possibile recuperare Non è stata una partita emozionante Abbiamo preso due gol di merda Silva 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 e fallo! Ammoniscilo, cazzo! Assurdo Non l'ha ammonito Assurdo, assurdo, assurdo Fernandinho Verso Silva Verso il basso Ancora Silva Silva Vede Lukaku 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 E il gol 2-1 Recuperiamo Recuperiamo Vai Lukaku In scivolata di sinistro Non è il suo piede ma la mette dentro 2-1 Svegliatevi, cazzo Andiamo, andiamo Veloci, veloci Niente replay Andiamo che lo recuperiamo Sta merda Tivi, veloce Fernandinho Verso Fellaini Ancora Lukaku Lukaku Fellaini di tacco Lukaku Rigore Rigore Mamma mia Che azione Mamma mia In due minuti In due minuti Il recupero Due minuti Ragazzi Abbiamo Silva Oddio quanto laggava Mamma mia Devin Silva Mamma mia Ho visto il portiere Nella giusta direzione Ma Devin Silva La mette dentro Fernandinho Ancora Scambia verso Silva Cosa fai? Cosa fai? Ti sei perso il pallone Silva Ti sei perso il pallone Dai Dai Non così Non così Sa da solo Non così I nostri cambi ragazzi È entrato il nostro Boni Boni È l'uomo degli ultimi dieci minuti Jarvis Jarvis La mette dentro Verso Fernandinho Oh mio dio All'ultimo minuto Boni non sa cosa fare Con la palla col piede La cross al centro Fernandinho Oh mio dio Ti o te Non era Fernandinho Era Ti o te Non si sta capendo niente Ancora Lukaku Verso Jarvis No Fallo 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 Due a due Un pareggio Per come si era messa la partita Ci va più che bene ragazzi Due a due Andiamo a fare un'altra partita subito E vediamo di prenderci almeno questa promozione Il nostro nuovo avversario È Pompis FC Pompis Pompis Higuain Il pipite Higuain Candreva Gervinio Ansic Guarin Bella difesa Con Bonucci e Barzagli Bella squadra ragazzi Partiamo dai Siamo carichi Oggi Lukaku Devi essere carico Silva tu non devi fare cagate Fra un poco ti vendo Cazzo Perché lagga così tanto Perché lagga così tanto Lukaku Lukaku Si gira Lukaku Prova la stecca Mamma mia che parata di Andanovic Moreno prende la palla Moreno prende la palla Verso Silva Silva si gira Errore Cross a centro di sinistro Verso Miralas Miralas Pure di testa Miralas Mamma mia che gol Miralas Kevin Miralas Grazie è fortissimo E non costa neanche tanto È spaventoso Fernandinho Guarda Miralas Guardalo Prova il tiro a volo Di testa Mamma mia che gol Che volevo fare Walker Walker Prova la botta Stiamo dominando 12 minuti Questa squadra è pressata In alto Verso Miralas D'esterno No non è fuori gioco Non è fuori gioco Aveva fatto un passaggio D'esterno Spaventoso Spaventoso Che nella realtà Manco fisicamente Possibile Era quel passaggio Oh oh Attenti Attenti A questi tocchi Attenta Gervinio Che è troppo veloce Mamma mia il palo Ci salva Solo col fisico Dovete buttare la terra Gervinio Ragazzi Fermate Gervinio Fermatelo Fermate Gervinio Fermatelo Mamma mia Begovic Silva Perché io tengo in squadra Questo Silva Perché non l'odio Io l'odio Non riesco a giocare Miralas Sulla fascia Tenta di rientrare Ancora Miralas Provate ad andare Verso la fascia Cross al centro Di Miralas Lukaku Che cosa ha fatto Si è buttato a pesce Una balena Non un delfino Una balena Lukaku Guardate il passaggio Filtrante Guardate il passaggio Filtrante di Onua Guardate il passaggio Filtrante Verso Miralas Che prova la stecca Dovevo passare al centro Per fare la merdata Ragazzi Però non mi andava Non mi andava Volevo sognare con Miralas Fernandinho Guarda Silva Ma perché ti fermi Perché ti fermi No Devo sostituire Silva Basta Silva Fai i movimenti del cazzo Proprio Ancora Miralas Questo è il cuore Che vogliamo Silva No i due giochetti Del cazzo Leviamo Silva Voglio Jarvis Entra Jarvis Ragazzi Vai via Silva Vai via I fischi I fischi Per Silva Vai Jarvis Fai vedere Che cosa vuol dire Essere una fascia Prendetelo 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 Esci portiere Mamma Begovic Mamma Begovic Oddio Begovic Cosa ha parato Prendiamo sta palla Levati dai coglioni Non riusciamo a prendere la palla Non riusciamo Oddio Oddio portiere Oddio la traversa Oddio Oddio Non è finita Non è finita Non è finita Vai Moreno No Il fallo Il fallo Aiuto Mamma mia Mamma mia Non ci credo Non ci credo Non ci credo 1 a 1 Non ci credo Andiamo 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 Veloci Boni Boni di testa Non ci credo Prendiamo sta palla Dai ragazzi Dai Fernandinho Verso in alto Verso Jarvis Che la passa a Boni Ancora Jarvis Sulla fascia Jarvis Corre Jarvis Corre Jarvis Tenta la sfida di tiro Prova il tiro Jarvis Jarvis Mamma mia Che gol Questo è un ala sinistra Non Silva Jarvis Guardatelo Che finta Controfinta Mamma che gol 2 a 1 ragazzi Vinciamo questa partita E passiamo in divisione 8 Questo sta rosicando di brutto ragazzi Questo sta rosicando di brutto Sta proprio rosicando Ve lo dico io Finisce la partita Bekovic Para di tutto Jarvis sostituisce David Silva Entra e segna Quindi con questi 3 punti Andiamo a 11 Quindi Divisione 8 Per noi 13 punti Abbiamo la vittoria del titolo Non dovrebbe essere neanche così tanto Difficile Proseguiremo nei prossimi video Mi raccomando Lasciate un like Un commento Una condizione Se il video vi è piaciuto Passate dal sito In descrizione Se volete acquistare crediti E comprare con quei crediti I giocatori Adesso costano anche molto meno Avete il coupon Vegas Per avere il 5% Ci vediamo Alla prossima Bella Here we go Yo Alla prossima 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 Grazie a tutti.